Ci stiamo avvicinando a uno dei muri più rappresentativi per Torino, non solo per me, che mi ha influenzato molto, ma anche per l'intera città, anche perché è in pieno centro Torino, quindi una location stupenda da vedere, a fianco all'amore, ed è un muro realizzato per il progetto Picturing, realizzato da Aritz, che è un artista spagnolo molto gelo, che è stato un rivoluzionario, è stato un po' una chiave di volta per noi, almeno per me, perché è riuscito a rivoluzionare realmente lo studio del character design, cioè dei personaggi che si fanno su parete, volgarmente chiamati puppet, nel nostro ambiente, e a cambiare anche lo studio sia del colore che della composizione dell'immagine. Grazie a questo non solo io sono rimasto influenzato da questa cosa e ho stravolto in qualche modo il mio modo di disegnare, ma anche moltissimi arti artisti contemporanei che si sono avvicinati al modo di disegnare di Aritz. E quindi non c'è altro da dire che se non, godetevela, questa è Aritz.